ciao ciao bambini io e la mia amichetta barbie presentati ciao io mi chiamo victoria e sono l'amica della nasty oggi vi dobbiamo presentare un bellissimo vestito e non solo un vestito è un vestito di una principessa vero vika oh sì è un vestito di una principessa che conoscete tutte voi ed è veramente meravigliosa sì è la principessa quale piace il freddo hai indovinato no allora te la presento la principessa frozen sì proprio lei e come vedi e vedi bene che ha un bellissimo vestito snow princess la principessa della neve c'è il suo castello bellissimo guarda c'è anche una borsetta fairy tales oh ciao bellissimo pupazzo di neve ha delle scarpine azzurre ci sono anche di belli belli braccialetti c'è il suo vestito e il pettine bellissimo pettine della frozen bello bello guarda wow adesso possiamo aprire e vedere quanto è bello questo vestito super super bello sei d'accordo che questo vestito victoria certo sono d'accordissimo basta che non lo so che i bambini mettono mi piace che gli piacerà questo vestito certo che gli piacerà vediamo vediamo come aprirlo eccoci qui tiriamola fuori da questa gabbia ragazzi grazie ora mi sento meglio se mi slegate certo che ti togliamo tutto quello che c'è dietro oh oh sono un po troppe ma ci metto la magia 1 2 3 magia oh guarda sono aperte tutte vediamo oh stiamo già per perdere la borsa la borsa della frozen guardala per bene è una borsa viola ed è molto bella è anche morbida tieni victoria tienila tu un attimo oh è caduta aspetta che te la sistemo tieni lo so che ti piacciono bellissime borse dopo di che togliamo le scarpine della frozen le prendiamo a noi una l'altra dov'è due bellissime scarpine guarda queste scarpe sono azzurre come il suo vestito adesso appena la togliamo mettiamoli dei scarpine mettiamoli per adesso qui sul divano dopo è rimasto il pettine della frozen per pettinare sui bellissimi capelli questa la mettiamo qui dopodiché togliamo la frozen da qui oh si libera eccola la nostra bambolina siediti sul bellissimo bellissima sedia per le principesse o ragazzi grazie grazie che mi avete liberato adesso mi sento molto più libera voglio farvi vedere il mio bellissimo vestito guardate vediamo vediamo ci sono queste bellissime bellissimi vestiti guarda quanto è bello tutta azzurra e brilla siediti un attimo che sarai stanchissima lo sappiamo bene oh si volevo che mi mettesse le scarpe va bene però prima ti metto la colana quale colana questa colana qui che c'è dentro il pacco proviamo a tirarla fuori vediamo e pure fatto eccoci qui la bellissima colana lana di frozen che si apre qui guarda la possiamo rimettere subito eccoci qua la colanina te la metto subito frozen guardate bambini come le sta bene questa colana è magnifica frozen mancano solo dei braccialetti per le tue bellissime mani bianche si vede proprio che sei una principessa e sono qui questi braccialetti guarda sono due te li mettiamo subito oh c'è un po di scotch allora uno e l'altro braccialetto per la frozen e due sono magnifici braccialetti rosa ma quanto sono belli sì guarda bellissimi mi sento così felice con questi braccialetti grazie 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 adesso sono rimaste le scarpine frozen te li mettiamo insieme ai bambini vero bimbi guarda bellissime scarpe della frozen oh sono bellissima adesso guarda vieni 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 anche tu victoria guarda che belle bambole che ce l'ho io ciao bambini vi salutiamo andiamo a fare un giretto vero victoria certo andiamo ciao ciao bambini ciao 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 ciao